Musica Ad un'ora dalla chiusura dei seggi, quello che fino a qualche giorno fa sembrava solamente una speranza, oggi è diventato realtà. Il quorum I4 quesiti referendari è stato raggiunto e all'Officina e Corsaria di Torino il Comitato dell'Acqua Pubblica sta preparando la festa di stasera, attendendo i risultati che arriveranno da tutta Italia. Gioia innanzitutto perché è stato un lavoro straordinario contro ogni previsione, però si è lavorato con grande entusiasmo, quindi secondo me era l'unico risultato che ci si poteva aspettare. Abbiamo lavorato in tanti e poi io credo che comunque noi il Comitato Torinese sia uno tra quelli più avanti perché abbiamo rispettato tutti gli step per i contributi da Versare a Roma, per i manifesti. Dalla raccolta firme fino ad oggi all'espressione del voto ci sono stati sempre segnali positivi, dal fatto che abbiamo raccolto un milione e mezzo di firme per la presentazione del referendum, che è stata la raccolta firme più ampia della storia della Repubblica, quindi questo era già un presagio positivo. E poi questi mesi di sensibilizzazione che vedevano ampiamente per le strade le persone con cui trovavano in contatto a favore, insomma erano segnali che facevano già ben sperare. Dopo 30 anni di neoliberismo avevano pensato di creare il loro uomo nuovo, un uomo economicus totalmente utilitaristico e di conseguenza si sarebbero trovati di fronte soltanto alla plebe e hanno scoperto di trovarsi di fronte il popolo. Il popolo è qualcosa che è consapevole di millenari diritti, di propri millenari diritti sui beni comuni, sul bene comune e questo popolo ha iniziato a riconoscersi proprio a partire dai beni comuni. Una vittoria che ha sconfessato i tentativi da parte governativa di evitare la consultazione popolare. Siamo convinti che ci è necessaria adesso anche una nuova sociologia della comunicazione, nel senso che siamo riusciti a sparagliare le carte. Cioè fino a ieri si pensava che la televisione fosse il medium di massa, oggi abbiamo dimostrato con il voto di oggi che non è così. Non è così, adesso abbiamo altri mezzi, altri mezzi anche più potenti della televisione che possono realmente mobilitare le persone. Gli italiani forse sono stanchi e pronti per fare qualcosa di diverso e poi la mobilitazione del basso, qualcosa di diverso e nuovo, non lo so, entusiasmante. No, non è la vittoria di un partito e questo è importante perché in realtà non è scippabile, perché è una vittoria condivisa da tanta gente, finalmente. Una vittoria non scontata, costruita partendo dai cittadini e che ha messo l'accento sull'importanza della difesa dei beni comuni.